ben trovati juventus una signora per due iscrivetevi al canale non dimenticate di attivare la campanella così siete aggiornati su tutto quello che capita e cioè come sta come vedi dico come stai che posso usare solo in alcuni momenti e sta bene mentalizzato tutto quello che accade intorno a noi mondo juve a noi e non solo e saluta naturalmente tutti gli amici di juventus una signora per due che ringrazio per l'attenzione allora vi abbiamo fatto una domanda banalissima darete la 10 a chiesa che caratteristiche deve avere un numero 10 le mie sono inventiva estro non una corsa eccessiva ma genio nel costruire le azioni nel piazzare i palloni nell'avere dei riferimenti nel sapere dove mettere la palla cioè la testa nei piedi il genio nei piedi pochi hanno avuto questo tipo di qualità perché così ci nasce lo abbiamo chiesto degli amici dopo naturalmente sulla nostra community hanno risposto in tanti ma la 10 ezzio la daresti a chiesa merita la 10 assolutamente no mamma mai mai nella vita 10 ma con tutto il rispetto per federico chiesa che si sta dimostrando che si era dimostrato prima della involuzione causata gli ovviamente dal facente funzioni si sta dimostrando un giocatore molto forte molto attaccato alla maglia molto molto serio però non ha le caratteristiche che un 10 è chiamato ad avere 10 e il centro di gravità permanente di una squadra e sinonimo e di un intelligenza calcistica di un talento che poi si traduce nel nella in arte prestipendatoria come avrebbe detto il maestro gianni brera e l'uomo intorno al quale gira tutta la squadra a cui la squadra fa riferimento è un uomo volendo anche ovunque che sa suggerire e sa finalizzare il numero 10 per eccellenza noi abbiamo avuti ovviamente tanti se permetti del ricordo assolutamente qualcuno john hansen uno dei primi grandissimi dieci dopodiché ovviamente si passa ai grandi all'altrettanto grandissimo o marsivori abbiamo avuto dei dieci misconosciuti come ad esempio giovanino sacco un talento precocemente evaporato robertino robertino baggio di stesso lo stesso liam liambra i 10 gli è sostituito da il 10 ma poi questo è il mio di abbiamo avuto dei dieci che non giocavano con il con il numero 10 ad esempio zinedine si danno tanto per rire 1 e lo stesso al reino da flero in arte pirlo abbiamo avuto dei dieci e grandissimi che però non erano effettivamente un 10 per caratteristiche ed è questo l'esempio di alessandro del piero gli ultimi come dire indossatori di questa di questa maglia sono stati nell'ordine polpo bar carlitos dellez e in ultimo il sivorino il sivorino di bala ora inutile aggiungere che per me il 10 per antonomasia il 10 che quando la numerazione delle maglie era classica rappresentava per ogni squadra l'eccellenza della propria della rosa non può non essere il grandissimo immenso incommensurabile michelle e questo il 10 michelle di latini se abbiamo sfiorato quelli che potevano essere uno in particolare i 10 meraviglioso probabilmente sarebbe stato ancora più grande di michelle massimo che giocava con il numero 14 si chiamava jonan cruy ma adesso stai parlando di giampiero boniperti la vera aveva l'accordo sarebbe venuto alla juventus peccato che in quel momento c'era uno stracismo verso gli stranieri le frontiere erano chiuse noi avevamo già uno straniero in squadra tale roger maniuson che poteva giocare soltanto le partite di coppa dei campioni o comunque delle coppe europee e non se non si poteva chiedere a uno come jonan cruy di venire a giocare in italia solo per giocare le coppe internazionali che tra l'altro la coppa dei campioni all'epoca era eliminazione diretta gli schiavi di essere già fuori al secondo turno quindi una grande occasione mancata ma abbiamo di che di che consolarci allora molti ci hanno scritto nella nostra community chiesa secondo me non ha queste caratteristiche la 10 viene data spesso dalla juventus per responsabilizzare ha citato tevez che arrivò con una reputazione pessima ma che da noi tranne la famosa frase pronunciata il famoso epiteto pronunciato legittimo si comportò perfettamente allora leggo un po di amici andy 84 carl su chiesa dice sì perché lo vedo come talento puro e futura bandiera bianconero seconda punta daniele dice la numero 10 va data un collante quello che unisce la squadra fa lavorare all'unisono chiesa è un cecchino velocista nulla a che fare con la 10 riccardo banelli sì assolutamente perché lui incarna al presente e futuro della juve quindi è la logica e il perfetto 10 pardo dice no perché non è un 10 un 7 un 11 ma l'innominato lo farà giocare numero 3 e io sono vi permettevi con i pregono da scopo mi schiero completamente dalla parte di pardo poi non pensare di farla franca io chiedo ti chiederò a chi la daresti oggi oggi mettiamo in conto che possa arrivare un qualcuno che magari con la maglia l'ha già indossata maurizio lo strutto dice no perché nel mio immaginario ci deve avere le spalle il cervello della squadra alfonso dice penso che adesso bisogna prima recuperarlo sotto tutti i punti di vista ecco perché il numero della maglia non conta francesco sì perché in lui vedo la juventilità simile a quella del piero ma dai mio nonno diceva sempre dice giannina che il gioco è bello quando dura poco adesso perché italiano della nazionale la 10 punto interrogativo francesco chiese fortissimo ma la 10 deve incarnare la classe pura danielo diciamo i seri ma siamo seri più di così la maglia 10 è pesante dice sandro specialmente la juve stimo molto mi piace chiesa ma per lui potrebbe essere troppo sposo anche questa tesi pinturicchio chissà dove arriva questo chiesa un grande ma può migliorare ancora ma la 10 no non è la sua maglia gaetano ala d'attacco non può prendere la 10 un dici alla sette manuele non è un 10 mi pare corrado ce ne sono tanti ancora e gli amici la pensino sostanzialmente grande master crono se dice la dare un giocatore più tecnico maria a pogba dovesse arrivare ne ho letti qualcuno chiedo scusa voi siete in tanti però mi sembra che siano tutti più per il no ora è un ragazzino diciamo un ragazzo molto dotato vediamo come rientrerà ma secondo me non ha queste caratteristiche però attualmente saprei a chi dalla che mi ha fatto una domanda posso io ti dico questo massimo tiri presente che ora la 10 non è solo il veicolo che trasporta una certa idea di calcio o che fa o che deve fare innamorare e ora innamorare di calcio bambini o adulti delusi ma oggi è una formidabile strumento di promozione e di commercializzazione questo è vero quindi io ti dico la mia poi io credo che se dovesse tornare un po la bilbo bar potrebbe indossare potrebbe gli spetterebbe di diritto da una parte per meriti propri anche passati dall'altra perché io non vedo nessuno nella rosa attuale ovviamente parliamo dei giocatori che sappiamo con certezza esserci oggi non vedo nessuno che abbia che possa ma non solo le caratteristiche ma la caratura per poterla per poterla sfoggiare io so che tu la vorresti addosso ad esciglio ma no io pensavo a ugani atto questa versione allora 10 va meritata e sudata mi rendo conto che siamo in un altro calcio per pensare che da 10 un 10 nasce ogni dieci anni ecco scusate il paro pillola poteva indossare tranquillamente il mio 10 e michel platini hai citato liam brady che è un calciatore che io amavo tantissimo entra in lutto quando lo sostituirono segnò contro la juve la prima partita di campionato quando giocava con la sampdoria e con un'estrema classe di se no questa juventus non è imbattibile in realtà ma circa non segnò lui è un segno lui no quella prima partita del campionato successivo però via se la sampdoria in quel caso di fu sampdoria juventus 1 0 a sampdoria di trevor francis non segno lui ho detto l'inesiatezza e la correggo subito meno male che con questa banca dati che mi cazzi ha scusate il termine giustamente a chi la darei no io potrei sollevare delle polemiche e solleviamo queste polemiche dai allora a me piace molto il veleno sta in coda come si dice a me piace molto di maria dico solo questo che trova un gran calciatore in orbita juve vediamo però un esterno si ma l'esterno non può avere la 10 a chiesa poi darla a 1 vedremo se di maria arriva che cosa sarà capace se arrivano pogba pogba e di maria se la giocheranno tu sei per pogba ok per di maria che secondo me è un gran calciatore per esice a questo punto grande interrogativo non credo che arriverà io però vi dico il vero di maria che di maria la 10 non sarà posta la via amici iscrivetevi al canale attivate il campanellino e vi diciamo subito che noi saremo costantemente qui anche durante l'estate ma poi seguiremo anche i mondiali che comunque interromperanno il campionato ma noi siamo qui a parlarne e zio a presto per chi vuole noi ci saremo a presto buon proseguimento ciao grazie a uc